Ma oggi bucaioli andremo a fare una bevuta, una bevuta come la fa io non la fa nessuno perché è una bevuta da fin di mondo, vuoi vedere come si fa a fare? Vi do il segreto, questo è la ricetta diciamo di cavalli in americano sbagliata a confronto diciamolo perché li tacco, andiamo a vedere tutti insieme la ricetta a voi sto andiamo a fare la nostra ricetta con le mani adesso prenderò un bicchiere di vetro, vedete questo è un bicchiere ed è l'ottima vodka, buona la vodka, buona e voilà, eccoci, acqua lì da un bocca, un altro bicchierino, un persona, un persona e guarda, gli dà qui il saporino a un brazo il sapore contro gusto, avviso, do you like water arno? buona l'acqua di arno, mettiamolo un po' fino e si dà questa sfumatura di nozambra, vedete che bellezza e voilà ragazzi, è un drink, one air drink è buono, ecco, c'è chi preferisce lo spritz, noi preferiamo diciamo l'acqua d'arno è molto più buona, no, non imbrogliarsi con chi usa quella dell'ombrone, non va bene e si va a mettere un altro bicchierino e si va diciamo a scegliere agnone, vedete? ci sono le mie stagne che specialità ragazzi, questa è una bevota, si va a mettere il sale questo è il sale di sesto fiorentino, vedete? che spettacolo, solo a sesto c'è il nostro sale si va a strusciare il limone, la coppa e la sia alla vostra, bucaioli che bontà, alla vostra bucaioli c'è l'epastec, le suon frisca, buona sera buona sera